Siamo con il Presidente della Confesercente di Viterbo, responsabile del CAT Viterbo, il Dottor Vincenzo Peparello. È una edizione, questa del Visitucia, molto importante perché lancia un messaggio per il silverturismo e il turismo lento. Qual è tecnicamente il senso di questa edizione? Noi a giugno abbiamo presentato due indagini che sono state realizzate dalla FIPAC nazionale, che è la Federazione dei Pensionati del Commercio e del Turismo della Confesercente con circa 120 mila associati. Questa indagine riguardava i tipi di turismo, di prodotti che sono ricercati maggiormente sul territorio da questi turisti. perché poi, ecco, questa è una fascia di popolazione che viaggia tutto l'anno e quindi, ecco, importante anche per la destagionalizzazione. Chiaramente, diciamo, da non confondere col turismo sociale perché ci sono fasce di popolazione che non si possono permettere di viaggiare, eccetera. Ma, insomma, ecco, qui parliamo di un altro segmento. Tra l'altro, per il turismo sociale, noi a più riprese come organizzazione abbiamo sempre rilanciato di ripristinare i buoni vacanza che, appunto, per fasce di popolazione più deboli che non si possono permettere appunto di viaggiare e sarebbe, come dire, una bella boccata d'ossigeno anche per il turismo più in generale. Poi, appunto, questa edizione è giunta la undicesima, proprio prendendo spunto e dalla convenzione gli accordi che abbiamo fatto con questa, diciamo, con l'associazione, appunto, Fibac e Confesercenti, ma oggi sono presenti anche tour operator, diciamo, agenzie di viaggio, tour operator. Quindi, ecco, il momento clou è rappresentato dal workshop, quindi l'incontro tra domanda e l'offerta. Gli operatori che presentano l'offerta sono tutti della Tuscia, magari aggregando anche un'offerta che va dal turismo culturale a quello ambientale, all'enogastronomico, al termale, quindi le città d'arte, cultura. Ormai sono tutti prodotti trasversali che viaggiano tra di loro, quindi è intelligente questa aggregazione di imprese. Tra l'altro oggi c'è anche la rete di imprese Enjoy Viterbo che è presente all'offe come abbiamo fatto nel passato. Questi pacchetti verranno transitate anche da stampa specializzata del Trade o riviste specializzate che appunto proporranno più in generale. Noi pensiamo di arrivare a 5.000, anche 5.000 agenzie di viaggio attraverso appunto la stampa specializzata. Quindi, ecco, diciamo, coniugare il Silver Tourism quest'anno, poiché quest'anno è stata proclamata dal MIBAC l'anno del turismo lento e quindi il turismo lento è un turismo che appunto i visitatori, i turisti, i clienti vengono o visitano le città, visitano la campagna, i laghi, visitano l'archeologia, diciamo, è un mix, la provincia di Viterbo è un mix fenomenale se riusciamo appunto a aggregare l'offerta, mettere in rete i nostri servizi per stare sul mercato in maniera attiva e non passiva. Grazie.